Pace e bene a tutti, intanto con questo saluto francescano che è anche molto evangelico perché è il saluto che Gesù risorto, che Cristo risolto, rivolge ai Suoi discepoli, ai Suoi apostoli. Lo ascolteremo nei Vangeli di queste giornate di Pasqua e l'atteggiamento, diciamo, il cuore dei discepoli è un cuore che forse assomiglia un po' anche a quello che possiamo attraversare noi in questa fase. Hanno visto il Maestro morire, sono intimoriti, sono tristi, sono amareggiati, le cose non sono andate come si aspettavano, avevano tanti desideri, tante aspettative verso Gesù e l'hanno visto morire in croce. Credo che anche noi viviamo un tempo in cui siamo stati colpiti da questo virus, da questa situazione che ci ha travolto. Non ce l'aspettavamo, non era secondo i nostri progetti, non è neanche secondo le nostre aspettative il fatto che dopo un anno abbiamo l'impressione che le cose sono ancora come erano un anno fa, con qualche lievo cambiamento, se io penso che comunque abbiamo potuto vivere le celebrazioni comunque con un po' di gente, però siamo sempre in queste zone dei colori, rosso prevalente. Non sono cose che noi ci aspettiamo e che desideriamo che avvengano e che continuino. Per cui siamo in questa situazione anche di grande sofferenza che colpisce la dimensione della salute, colpisce la dimensione economica, quella delle relazioni, quella sociale. Non si vede neanche immediatamente una uscita. Allora la domanda anche che si fa, l'uomo di fede è dove sta? È quella differenza che ha il credente nell'affrontare questa crisi, questa situazione che raggiunge anche i livelli di drammaticità. Ecco, la risposta del credente non è quella di una risposta facile, è quella di semplicemente di chi si avvicina a Gesù e che Gesù si avvicina a noi come discepoli di Emmaus perché Gesù ha condiviso la nostra esperienza drammatica e contemporaneamente ci dice che questa esperienza ha un suo significato. Immediatamente noi non lo cogliamo, ma ha un significato che dice che non è vero che è vano quello che noi stiamo vivendo, che non ha un senso, che è in qualche modo qualcosa che ci deprime e ci amareggia solamente. In realtà noi stiamo sprigionando tante energie di bene, penso certamente a tante persone, non solo negli ospedali, ma anche a tanti sacrifici che le persone fanno per mantenere il proprio tenore di vita, la propria famiglia, la propria azienda. Lo stanno facendo tirando fuori il meglio di sé, perseverando anche in situazioni difficili come quelle delle famiglie che devono mantenere anche l'educazione dei propri figli. Tutti questi atteggiamenti, che sono atteggiamenti di amore, di disponibilità, di tenacia, di costanza, di perseveranza, sono atteggiamenti che già dicono di una resurrezione, dicono già di come noi possiamo avere una dimensione di speranza che accompagna non una speranza illusoria, ma una speranza vera. Il Cristo che risorge dice che questi atteggiamenti di amore, di disponibilità, di tenacia, di perseveranza, sono gli atteggiamenti che ci permetteranno di rialzarci. Camminate nella speranza, ha scritto nella sua enciclica Fratelli Tutti Papa Francesco. Camminare nella speranza per il credente è credere che la resurrezione è più forte delle nostre amarezze, è più forte delle nostre tristezze, che la pace e il bene che è l'augurio che noi ci facciamo e che è il dono in realtà che Cristo fa, è un bene vero, profondo, che si innerva sulla nostra vita e ci permette di guardare oltre, oltre alla notte all'aurora di un'esistenza nuova che tutti noi aspettiamo e sappiamo che è parte di noi e che viene. Buona continuazione delle feste pasquali e che il Signore ci ridoni sempre pace e bene.